Ho scoperto il Rebirthing Breathwork grazie all'incontro con la mia maestra Katia Bustani di Global Breathing Awareness. È stato un incontro che mi ha cambiato la vita perché mi ha iniziato alla via del respiro consapevole in una dimensione che non avevo mai conosciuto prima. È stata un'esperienza totalmente trasformativa. Ho scelto di approfondire, di ricercare che cosa fosse, che cosa mi potesse portare, fino a che questo mi ha fatto scegliere di farla diventare la mia professione. I benefici della pratica sono davvero molteplici. Parliamo proprio di benefici a livello olistico della persona nella sua totalità. A livello fisico innanzitutto il respiro consapevole, il breathwork, promuove il rilassamento del sistema nervoso e lo porta a stimolare il sistema parasimpatico, quindi crea proprio una funzione di rilassamento che promuove il miglior funzionamento di tutti gli organi, promuove la stimolazione di ormoni che beneficiano il nostro benessere, la nostra felicità, la calma interiore. A livello emotivo permette di liberare quelle che noi chiamiamo emozioni soppresse, emozioni ripresse, che possono essere emozioni dolorose ma anche emozioni di gioia che a volte non ci concediamo di vivere, di liberare in maniera piena. E così facendo ci sentiamo molto più liberi e molto più leggeri. A livello psicologico permette di creare una calma a livello mentale, più calma, più serenità. Permette di sentire, di avere delle sensazioni come se il tempo fosse allungato, che nel mondo in cui viviamo adesso così sottoposti a così tanto stress è sicuramente un beneficio apprezzato da tutti. E questo avviene proprio perché il respiro circolare connesso è una forma di meditazione attiva che permette proprio di entrare nello spazio tra i pensieri in maniera olistica, quindi multidimensionale. Facciamo lavorare insieme il corpo, la mente, lo spirito, il subconscio e creando proprio un'alchemia di energia e di sensazioni che elevano il nostro essere. Ci permettono di trovare chiarezza, calma, a volte ci portano delle risposte e anche dei breakthrough, delle rivelazioni che possono veramente portare le persone su un cammino più autentico di vita e di missione di anima anche, come è successo a me.